Paolo Poddige all'esordio, alla presentazione ufficiale di questo Para Archer European Cup 2019. Un successo annunciato visto che già dalla fine della scorsa edizione avevamo presentato questa che andremo a vivere in queste giornate. Sicuramente è il continuo di proseguo delle altre edizioni. Questa è la terza edizione, è stata sempre un increscendo, siamo arrivati a 21 nazioni, è arrivata anche l'America quest'anno, il Giappone è confermato, il Brasile, per cui si sta estendendo ormai a tutto il mondo. In attesa poi di un grande evento che sarà quello del prossimo anno che il campionato europeo è ufficiale e le prove di qualifica per le carte paralimpiche di Tokyo 2020. Olbia e la Sardegna è diventata la sede della grande parerceria e questo ci fa un grande onore e piacere. Soprattutto il fatto di iniziare ufficialmente quella che è la stagione che poi, l'abbiamo detto e ripetuto più volte, deve anticipare e anche proseguire quella che è la normale stagione estiva. È chiaro che abbiamo il focus dell'arceria mondiale addosso. Sì, quest'anno lo abbiamo anticipato e la seconda prova stagionale, prima c'è stata a Dubai 15 giorni prima, adesso questa in attesa del campionato del mondo in Olanda, la prima settimana di giugno dove si giocheranno questi atleti le prime carte paralimpiche. Devo dire che è un inizio di stagione per loro abbastanza lunga perché poi proseguirà con la seconda prova di World Cup in Repubblica Ceca a luglio e la finale, perché quest'anno sarà la finale del circuito a Wiesbaden in Germania il 17-18 di agosto, dove i migliori atleti di queste due prove si giocheranno poi il titolo del circuito. Prove generali, ma soprattutto uno staff che ormai è davvero coeso e che lascia tutti stupiti perché sarà una settimana intensa, soprattutto onorata la presenza di tanti campioni. Sì, qua ci sono 40 medagliati tra paralimpiadi e mondiali, un'organizzazione eccezionale, ci sono 75 volontari, credo che sia, sono numeri che permettono a un'organizzazione di dare efficienza e dare poi una grande ospitalità e accoglienza a questi ragazzi che sono stupendi. Grazie. Grazie.